Forza ragazzi, mettiamone una sopra l'altra Siamo in orario? Sì! E' inutile che mi fai gli occhioni, non si mangia il servizio Dobbiamo superare il muso del treno Ha detto muso Rompi via! Dove andate di bello? Dobbiamo fare una cosa importante Questo è il nostro abbraccio per tutti i bambini Forza ragazzi, benissimo! Dobbiamo! Alla!